Ancora una volta a risuonare in Piazza Cavour sarà l'inno dell'Asia, fatto l'incetta di riconoscimenti. Dico bene, vamo a dirci molto vera, molto bene. Scusi di quelle parti là. Le premiazioni in attesa della performance musicale di Alberto Vallette e Davide Apolloni. Poi l'ultima parte del podio Animus, siamo pronti con le medaglie e poi anticiperò qualcosa del gran finale. Vai con l'inno ancora una volta della Serbia. Scusi di quelle parti là, vamo a dirci, vamo a dirci, vamo a dirci, vamo a dirci.